bentornati in realtà non so se farò mai questo video su youtube se avrò le palle di editarlo ma mini vlog di questa sera san valentino io insieme a un mio amico di nome shoi andremo a cena insieme entrambi single magari troviamo le ragazze che faranno la stessa cosa nostra siamo single andiamo al sushi da sole magari vabbè sta di fatto che vi racconterò di questa esperienza ma adesso l'outfit sopra c'è un casino sul letto ma non è colpa mia la tassi vediamo il tempo non so perché oggi sono così carico inizierò una nuova vita da youtuber basta danza mi servirebbe una camicia bianca l'avrò stirata no devo stirare ora trovate i pantaloni se trovate i pantaloni l'ho trovata non dovevo neanche stirare bella vera? si spaccata vediamo se questa è ripresa l'azze anche prima volevo fare grandangolo ma no mi ero dimenticato quindi se vedete sbalzi normale grandangolo devo vedere come per la cravatta non l'ho mai fatta proverò userò fotocamera interna fotocamera interna perché fino a dove cazzo guardo guardara fino a questo momento non ho azzeccato una ripresa mi sono fidato del mio istinto ed è andata di merda quindi perché guardo continuiamo ora andrò a vedere su google come si fa una cravatta come si allaccia non ci sto capendo un cazzo una specie di tutorial su come non si fa una cravatta sto già perdendo la pazienza aspetta ero giusto perché dovevo andare qua si 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 sembra un cappio questa è la merda che ho appena creato tutto questo è colpa tua davide che hai avuto questa idea del cazzo no ragazzi non potete capire ce l'ho fatta questa è una vittoria se non guarda due fantazie diverse bla 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 era l'unica cravatta che avevo c'era stata una richiesta si um cazzo uno vado a sposare e sono singolo a san valentino la scelta delle scarpe cade su quiz eccolo qua shoddy on the track che già inizia male perché lui rompeva il cazzo per la cravatta e non ce l'ha manco c'è stato un misunderstanding io volevo venirti incontro e invece no c'è della fame sushi siamo un po in ritardo e vabbè no 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 e lo diamo ok ok io vai più veloce manca poco al sushi quindi sushi già lo sai già lo sai già lo sai si involpa si 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 es si 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 eh la mia compagnia di qualcuno speriamo shoddy on the track unboxa il big scott vivrai a lungo felice e contento adesso tocca a me ringraziamo il tecnico davide che si è appena mangiato la scena da rifaccio rifacciamo avete una grinta formidabile il vostro impegno è ammirevole ma anche tradotti napoletano la gazzina guadagnoli ha filmato attenzione si rischia si stava avverando il mio bigliettino tra l'altro mi sono dimenticato di dire che pagava shoddy stasera per per un motivo sponsor shoddy per una cosa dire è così no non l'ho pagato in attura raga tranquilli ok mi dà una caricatina se castelvecchio mi porta a bere il fratello e si e si e siamo su ponte vecchio no oddio sconto è vecchio era dai si è vecchio dai si è vecchio è vecchio per la city si dove shoddy fuck, si dove shoddy brock shoddy brock volevamo andare in un bar ma era già pieno di coppie shoddy on the track shoddy on the track tira fuori il mazzo che mescoliamo tira del 5 batte da mano si si shoddy gioco si sai gioco serio gioco serio gioco rischioso vediamo questo ti entero vai la rischio la rischia shoddy eh bravo bravo un carto di shoddy è questo shoddy e brock mi sa che dopo aver bevuto è un amaro dopo tutto digestivo con tutto quello che abbiamo mangiato la chiudiamo qua yo vediamo se riesco a fare il cosa a editare il tutto edito 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 bella raga e poi noi i 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